Grazie per avermi invitato a uscire, nonostante quello che è successo, mi è piaciuto passare del tempo con te. Sì. Sai, ho del vino in casa e poi Octavia passerà il weekend con sua madre, quindi potremmo... Senti, non ti scoperò stasera, ok? Sono davvero... Non sono dell'umore adatto, Stolas. Potremmo parlare o vedere un film o farci le coccole. Stolas, non comportarti come se tra di noi ci fosse qualcosa, tu vuoi me solo per fotterti, ok? Io lo rendi chiaro tutte le volte. Ma io davvero non posso stasera, ok? Mi dispiace. Ok. Buonanotte, Blitz. Notte.